Palladino, Siram a Energy Med, di cosa si occupa la vostra azienda e come mai avete deciso di partecipare a questo vostro convegno? Prima di tutto perché questa credo sia una vetrina importante, quindi penso che sia un'ottima iniziativa del Comune di Napoli. Siram è una società che si occupa di efficientamento energetico, siamo una multinazionale di proprietà francese, abbiamo un fatturato importante in tutta Italia e al sud lavoriamo anche tanto, noi abbiamo un NOA importante in quasi tutte le strutture ospedaliere, al Comune di Napoli perché riforniamo calore, abbiamo la gestione degli impianti e adesso la scommessa è la cogenerazione, cercare quindi di aggredire il mercato di efficientamento energetico e quindi la parola d'ordine è il risparmio. Quindi attraverso questo cercheremo di dare un contributo agli enti e ai privati che ce lo possono richiedere.